Spai, lo sei riuscito? Wow, Stylora, da dove spucchi? Ero davanti al castello nelle fiamure d'autunno. Il castello è di nuovo libero! Non c'è braccia di Ripto! E da quando tu sei qui, le creature di Avalon vanno finalmente d'accordo! Visto che hai fatto tanto per Avalon, rinunciando anche alle tue preziose vacanze, ci tenevamo a fare qualcosa di carino per te. Non è molto, ma ti piacerà? Wow, è fantastico! Non ti unisci a me? Ah, no. Mi piacerebbe, ma vado dal professore nella tundra d'inverno. Sta lavorando al superportale per rimandarti a casa. Oh, sembra interessante. Io penso che resterò qui a prendere il sole per un po'. Ehi, dov'è finita il ora? Devo seguirla!